Siamo qui in compagnia di Mr. Vanoli dopo la brillante vittoria inamichevole contro la Repubblica cieca. Lei alla vigilia chiedeva una risposta dalla squadra a delle conferme, soprattutto dopo il brillante cammino nella prima fase dell'elite del campionato europeo. Oggi devo dire che la squadra ha superato brillantemente questo test. Era un test importante ma non è tanto il risultato, è la prestazione di questi ragazzi che hanno fatto oggi. Questa è la testimonianza che è un gruppo importante che può crescere, lasciando da parte il risultato, ma quello che hanno fatto in campo dal primo minuto fino ad arrivare al 95esimo è quello che devono portare avanti sempre. Perché la seconda fase non possiamo sbagliare, la seconda fase ne passa una sola e quindi diventano tre partite giocate a questa intensità. Quindi un complimento grandissimo a un gruppo che sta diventando una squadra. Adesso in attesa anche del sorteggio in vista del campionato europeo, lei come valuta questa squadra in vista degli impegni che arriveranno nel 2016? Faccio i complimenti intanto anche ai ragazzi nuovi che si sono presentati qua all'inizio che hanno capito subito la mentalità che ci vuole il campo internazionale. Faccio i complimenti al gruppo vecchio che ha fatto capire ai nuovi che cosa serve per arrivare a vincere. Adesso ci aspetta la Serbia, poi ci aspetterà la Spagna, la Francia, sono tre partite che ci metteranno in condizione per arrivare alla seconda fase e l'ho detto anche ai ragazzi, vivere un sogno, il sogno quello di andare a farlo europeo e di qualificarci per i mondiali. Grazie